Analisi veloce delle batch Primo step Possiamo trovare Goku Kaioken STR Guan Future Int, Piccolo Fisico, Trunks Tech e Gogeta GL Secondo step, LR Goku Super Saiyan GL Goku Int, Keleka Ulifla Il trio, Trunks e Mai sostanzialmente Beerus STR e Goku Super Saiyan 3 Sapete qual è la più grande rossicata per me di queste pull sulle LR Che manca l'unica LR che mi manca Non ci sta, perché non hanno messo Goku e Piccolo Int Perché? Goku e Piccolo Int valgono meno di Trunks e Mai Che c'ho già full abiti Ma valgono meno del trio che c'ho già full abiti Terza step con ben due SSR garantite La nona e la decima La nona è un raid summon Dove possiamo trovare Yajiro Baytech Tora Int, Hachan Che sarebbe Ottavio Piccolo STR, Vegeta GL Goku fisico, quello là con l'infarto E Giaqua GL Sono le LR Eza mi pare E beh, c'è Goku Super Saiyan 3 Tech Quindi spoiler che va ad Eza anche da noi adesso Capiamo Come Doc and Fest possiamo trovare Yamcha Int Goku Kid fisico Pan Tech Goku God Int Quello blu con Vegeta Sostanzialmente Goku STR Goku fisico Che sono quelli del I due rispettivi dual E poi abbiamo anche L'incheribile chance di trovare Una LR Ovvero Gohan Gohan LR AGL Qualche giorno fa Non mi ricordo C'era qualcuno che aveva detto Eh ma mo chissà quando potrò mai pullare Se le Gohan Perché non li ho mai trovati Non tornano più Eccoli qua Stanno qua Step 4 Step da LR Dove possiamo trovare Bulma Possiamo trovare Goku e Gohan Tech Goku piccolo fisico Goku Kaioken Mirai E Trunks AGL E L'incredibile coppia di Namek Krillin e Gohan Ultima step Ma non per importanza Anche qua Due SSR garantite La nona e la decima Nella nona possiamo trovare E qua insomma ragazzi Non voi ci scherzate Ma io pullo Soprattutto per questo Perché possiamo trovare Krillin e CTR Che mi manca Vegeta Tech Che mi manca Pan Di Super Hero Trunks e Goten Di Super Hero Goten Se piccolo AGL E TN fisico Che mi manca Ultimo step Goku Tech Ventitresimo torneo Kale Berserk AGL God Q fisico Bardak Tech E Il duo Di KK Quindi Tutto sommato Non male Tutto sommato Non male Il giro Tanta merda Ma anche Tanta roba interessante Nella batch extreme Invece Parlo per il mio box Ma in generale Secondo me Due spanne sotto Rispetto alla super Allora Prima multi Possiamo trovare Cooler STR Zamasu AGL Broly fisico Blackint Metal Cooler AGL Superboy STR E addirittura La buonanima Di Golden Freezer Int Manco il fisico Manco L'Angel fisico Sarebbe stato meglio Quindi nella seconda step Possiamo trovare Nappa Black Blackint Di android fisici Baby Cell fisico Blacktech E Full power Fesa Vabbè Comunque In terza Possiamo trovare Cell Radish Geniu Kid Buu Yandroidi Tech Broly Int E come dicevo prima Se da un lato c'è Gohan Dall'altro c'è Cell LR Nella quarta step LR Possiamo trovare Super Bua GL Zamasu Golden Vegeta Tech Goku e Hit Vegeta E Janemba fisico E nell'ultima step Tardes Piccolo Int Yandroidi STR Cooler E Mageta Mamma mia Da Cioè A parte piccolo Ragazzi Veramente Io scapperei Da questa Vatch Devo comunque Vedere Quali sono I Rare Summon Quindi Nella terza step Le Rare Summon Sono Bello I due draghi Tech Black HGL C16 E C18 Fisico Napp STR Regume Gould STR G6 Bart RSL Seconda forma Nella quinta Invece Dites E Cacao Amon And Rising Frost Dottor Mio E Dottor Ghero Sincer Run Tech E Yandroidi Int No ragazzi Non sta proprio Non c'è proprio Paragone Ma 100.000 volte Meglio questo Quindi Per inaugurare Questo 2024 Inutile andare Andare oltre Aspettare oltre Direi di fare Questa pull Eh Vai A bruciapelo Qua non mi serve nulla Le prime multi Sono proprio Di riscaldamento Un LR Qualcosa in più Non ci farebbe schifo E invece Sarà solo Il PG Banner Vabbè Qua non si poteva Cercare niente Di buono Vai con la 30 Vai E Qua l'unico che mi servirebbe è Goku Super Saiyan a GL Che ce l'ho free E invece mi ha dato il trio che è full Vabbè, come al solito Iniziamo bene questo 2024 Vai con la terza Qua sono due PG Oh, non mi sta dando nulla di extra Full abiti, ovviamente Buono Buonissimo Buonissimo Non pensavo neanche che stessi in questo step qua Vai Vai Questo infame bastardo esce sempre Un poco e piccolo fisico Va bene, dai Non ricordo a chi abiti ce li ho Perché penso me li abbia spammati un botto nel carnival Ho paura Forse sono già full, non lo so Ragazzi Quilin e god In una sola multi Che 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 Aspetta però doppio crack Potrebbe essere anche un LR Oltre ai due PG banner Ah no ci stanno Ci sono Coco e Vegeta Eh si mi sa che Mi sa che mi da la copia dei Golden Mannaggia Dio Questa vabbè Il più merdoso che mi poteva dare Che schifo ragazzi Ma è una gioia Mi hamit Grazie a tutti. 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 Oh ma su Gogeta proprio mi sta dando l'assà per il nuovo Gogeta che uscirà. Dai Omatsu. Dai Omatsu. Godgu prima. Godgu prima. Godgu prima. Godgu prima. Godgu. 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 Godgu fisico. Godgu fisico. Godgu. 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 il consiglio di gian vittorio abbonatevi supportate questo canale sennò lo chiudo giaco ok gli angi fulabili di maio fatto fulabili angelo e domazio no non fare così dai porco dio dammi cazzo di go du di merda via e che facci cioè non ti so noi non sto chiedendo neanche bulma capi non la sto chiedendo bulma ram sus facci mi godgo oh finalmente non ce l'avevo non serve a niente ma almeno un ld che non ho dai krillin e godduku si può fare è l'ultimo giro tutte le ho spese quelle che dovevo spendere qua omatsu e gian e che cazzo no 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 E' l'era voglio Cioè guarda per figliami per il culo me l'ha data pure nella prima Poi me l'ha data nell'ultima Dammi almeno Krilin Dammi almeno Krilin Digit 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 Grazie.